E' uscito il nuovo album dei Merce Fresca di Caltanissetta, oggi domani un concorso, con noi Lorenzo Ciulla, parliamone. Di Caltanissetta è provincia Merce Fresca, sì in realtà la band nata nel 2005 è ancora oggi qua, freschi, con la domanda di freschi, sì ancora freschi, è ancora qua a promuovere musica, a promuovere allegria, a promuovere quello che poi sarà e che vedrete domani sera se venite al concerto. Il concerto dove? E' tutto domanda e risposta, è così. Noi domani sera presenteremo e partiremo da Caltanissetta, dal centro culturale Michela Abate, per presentare il nuovo disco dei Merce Fresca, oggi domani un concorso. E' difficile farsi strada per dei ragazzi di provincia? Ma in realtà con i canali che ci sono oggi, vuoi internet, vuoi poter viaggiare facilmente, si può raggiungere tutto il mondo. Quindi è una questione di buona volontà, è una questione di tenacia, è una questione di resistere. E poi chissà, mostra? Oggi o domani un concorso, il CD di Merce Fresca lo dice anche. E parliamo dei brani, dei test. Sì, questa volta abbiamo voluto una produzione artistica esterna ed è Pierpaolo Latina che ha curato il CD. Sono otto brani con due featuring molto importanti di due cantanti siciliani. Sono Peppe Cubeta e Max Busa degli Alibaba. All'interno c'è un suono che varia da brano in brano, si va dall'elettronica al folk, allo ska, alla musica anche popolare. Quindi è quello che sentirete domani, è quello che noi vi proporremo domani all'Ex Macello. Dalle 21.30 in poi noi saremo lì a proporvi ancora tanta allegria e tanta merce fresca. Dalle 21.30 in poi noi saremo lì a proporvi ancora più grande. Grazie. Grazie.